Benvenuti nel crowdfunding del film di Daniele Biacchessi, disegnato da Giulio Peranzoni, liberamente tratto dal libro di Carlo Barbieri, Le mani in pasta, edito da Yaka Book e editrice consumatori nella collana Contastorie, in vendita ormai dal 15 luglio 2021 nelle principali librerie italiane. Le voci narranti sono di Daniele Biacchessi, Tiziana Di Masi, Francesco Gerardi e Paola Roccoli, le musiche di Gaetano Liguori, Gang, Modena City Rambles, Andrea Segona, le fotografie di Giorgio Salvatori, Carlo Barbieri, Lucio Cavicchioni. Nel film viene raccontato il lungo e virtuoso cammino delle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie, le storie di chi è riuscito nella grande impresa di realizzare prodotti di qualità eccellente, come il vino Cento Passi, pasta, legumi, olio d'oliva extravergine, miele, conserve dolci, salate, mozzarella di bufala, limoncello. Sono cooperative che portano i nomi di vittime innocenti delle mafie, come Placido Rizzotto, Rosario Olivatino, Don Peppe Diana, Rita Adea, Beppe Montana. Sono luoghi di libertà in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Il solo film è finanziato in crowdfunding fino al 2 aprile 2022. Tra aprile e maggio 2022 è prevista la sua distribuzione in download digitale e box DVD. Diventa dunque coproduttore di Le Mani in Pasta